Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Tales of Evil, uno dei Kickstarter più finanziati, uno dei giochi in assoluto più attesi del 2020 e un progetto di Antonio Ferrara che ringrazio personalmente per avermi fornito questa copia per la recensione. L'ho contattato direttamente su Facebook, mi ha risposto tempestivamente e mi ha mandato subito questa copia che come vedete è in edizione Kickstarter perché è il gioco della Escape Studios, appunto come ricordo di Antonio Ferrara se non erro la versione inglese è distribuita dall'Ares Games, mentre invece dal prossimo anno, dal 2021, lo prenderà direttamente a Smo de Italia per portarlo comunque in versione Retail perché la versione che vedete qui davanti è soltanto perché ha fatto appunto il Kickstarter e vedete infatti c'è anche il bollino dell'edizione Kickstarter, un gioco attesissimo e per tutti gli amanti veramente di Stranger Things o anche dei Goonies a cui si ispira, ragazzi, un tocca sana e di un divertimento unico ma la valutazione ve la do alla fine. Intanto, sigla! Tales of Evil, un gioco dell'Escape Studios, un gioco fornitemi da Antonio Ferrara personalmente, proprio lui me l'ha mandato all'autore del gioco che ancora ringrazio da morire e vi ricordo che l'edizione inglese, se non erro, è distribuita da Ares Games mentre l'edizione italiana lo porterà quest'anno l'Asmo d'Italia quello che vedete qui davanti, come vi ricordo, è soltanto l'edizione Kickstarter, non è la versione Retail e questo gioco è molto bello perché ricorda, prende a piene mani ricorda molto sia Stranger Things, come serie un pochino più note e anche odierne, mettiamola così che anche i Goonies o serie appunto dell'epoca il mistero della burattinaia demoniaca è la questline principale del gioco che ci vede nei panni di un gruppo di ragazzini che devono entrare dentro una casa, una villa maledetta e devono andare ad investigare appunto quello che è successo loro si fanno chiamare Pizza e Investigation appunto questa cosa rimanda un po' ai Goonies, se vogliamo e siete un gruppo di ragazzi che devono risolvere dei casi e indagare soprattutto sul soprannaturale nel classico veramente stile anni 80 infatti il gioco è ambientato in quegli anni lì gioco dai 13 anni in su? sì, forse perché c'è un pochino da leggere, un po' da narrare però fondamentalmente sì, diciamo che l'età va bene, mi ci trovo molto d'accordo gioco da 1 a 6 giocatori, si può giocare anche in solo però secondo me, avendolo provato, il meglio lo dà in 3-4 giocatori perché ci sono dei momenti in cui c'è un po' da discutere fra di noi e prendere delle scelte alzando una mano o prendendo il classico bastoncino per vedere chi ha il bastoncino più piccolo, quello più grande per vedere a chi andrà la scelta quindi perde un po' giocato da solo vabbè, ma quello come tutti i giochi cooperativi fondamentalmente e la partita va dai 60 minuti in poi per quanto il gioco lo potete giocare anche a partita singola un po' come dello stesso autore anche Last Friday però secondo me il meglio lo dà nella vera e propria campagna perché è come andare a vivere un film intero oppure anche una vera e propria serie televisiva come Stranger Things vi spiego un po' come funziona senza più fare tutorial ma prima di tutto, unboxing la confezione del gioco lo vedete, molto molto semplice anche come tipo di disegno e tutto quanto però la figata è che questa è fosforescente questa qui la caricate un pochino con la luce spengete la luce, ragazzi, è una figata assurda io questo gioco lo lascerei al sole tutto il giorno per vederlo risplendere di notte e i dadi e anche altre varie componenti che all'interno sono fosforescenti secondo me una figata assurda che ancora di più ci cala nell'ambientazione in quegli anni lì apriamo manuale di gioco che è di una semplicità assurda il manuale di gioco ti dice praticamente leggimi ma alla bona ha detto la livornese cioè potete anche tranquillamente provare a fare una partita più che spiegarvi le regole vi da qualche esempio perché ragazzi è talmente semplice come tipo di gioco che non ha bisogno veramente di nient'altro che una manciata di pagine per spiegarvi un po' come funziona e qui vi spiega un pochino da questa parte cos'è quel fusion system che vi dicevo prima è molto interessante ma potete anche saltarlo adesivo da mettere sulla macchina anche questo fosforescente ve lo ho detto è tutto fosforescente questo gioco le carte dei personaggi che sono ovviamente carte lo vedete pizza investigation sono le carte dei ragazzini e da quest'altra parte sono i vari slot dove mettere le batterie che le batterie sono quelle che attivano le vostre abilità speciali vedete l'equipaggiamento tipo le armi le difese oggette che vi potete mettere in testa sul corpo e poi valore punti ferita sanità mentale e valore terrore manualetto di espansione della versione kickstarter libro degli eventi gli eventi tutte quante le cose che possono capitare in gioco il manuale dell'avventura principale che è il mistero della burattinaia demoniaca questa qui è la storia principale del gioco anche qui avete tutti quanti i paragrafetti da leggevi sembra quasi una specie di libro game un poster a grandezza cinema un po' come fosse una locandina del film di Tales of Evil anni 80 guardate con tipo tutti quanti i nomi cioè in fondo no vabbè i loghi spettacolari ragazzi spettacolari bellissimo una plancia su cui disporre tutte quante le carte poi uno sbotto di token che sono i punti ferita sanità mentale ve l'ho detto tutto il resto e tutto il resto di token che vi servono per giocare più le batterie e dall'altro lato ci sono i tile di gioco che dovrete andare a comporre per come vi dirà appunto il gioco stesso ragazzi guardate la qualità come sono disegnate veramente da paura poi abbiamo i dadi per la felicità di mia moglie col ragno che sono fosforescenti il sacchettino Tales of Evil degli standi fosforescenti una spilletta guardate bellino tutte quanti i mazzi di carte in più le miniature che questo dovrebbero essere uno stretch goal perché ho visto nella versione base del gioco c'erano i cartonati degli omini praticamente gli standi mentre qui invece sono vere e proprie pedine in plastica e ragazzi come avete visto hanno fatto un'attenzione a tutto vi ci hanno messo la spilletta vi ci hanno messo la locandina del film è veramente veramente uno spettacolo fare un unboxing di un gioco del genere il gioco ragazzi è veramente molto semplice ed è un gioco narrativo infatti come avete visto durante l'unboxing ha un libro dentro di narrazione che dovrete andare a leggere quando il gioco ve lo farà presente o quando magari una carta richiamerà un paragrafo o qualcosa del genere da leggere ci sono le schede dei personaggi ogni personaggio è diversificato ci sono caratteristiche ovviamente un valore di attacco che potrebbe essere dato ad esempio sia dal personaggio che anche dall'equipaggiamento che avete trovato c'è un valore di difesa che è dato dal personaggio o da un equipaggiamento un'armatura sono dei ragazzini non sono dei guerrieri di un fantasy quindi magari come scudo avete il coperchio di un bidone e cose del genere però comunque un valore di difesa dei punti ferita un fatto anche dei punti sanità mentale e il gioco è molto semplice perché alla fin fine dovrete andare a tirare i dadi tra l'altro è tutto fosforescente apro una parentesi ficata assurda la scatola è fosforescente i dadi sono fosforescenti cioè a me ste cose mi fanno un pazzino veramente mi ricordo allo slimer di quando se era piccini che lo appicciavi nel muro e di notte faceva luce e ti mettevi paura perché magari nel caso te l'hai anche dimentiato ed è molto bellino perché ha questa mappa componibile dove voi nel 90% dei casi vi muoverete tutti insieme come gruppo ma a volte vi capiterà anche di dividervi nei movimenti base siete sempre tutti insieme le miniature si spostano in stanza in stanza tutte insieme e vi dicevo è molto interessante che ogni personaggio ha le sue caratteristiche ci sono carte evento di cose che potranno capitare ma soprattutto non è un gioco prettamente legacy per legacy io intendo quei giochi che fatti una volta li puoi tranquillamente rivendere perché la storia è sempre quella anche qui ben o male la storia è sempre quella però le strade che si possono prendere per arrivare al finale invece sono molto 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 diversificate quindi è un po' come Tainted Grail la storia è quella non cambia però magari potrete scoprire cose nuove facendo una seconda una terza run in gergo si va a comporre la mappa si va a comporre il mazzo di carte che poi ovviamente sono carte evento oppure anche carte soprattutto equipaggiamento e i vostri personaggi andranno a combattere quando si va a fare un combattimento si trova da fare una sfida che magari ci chiede di fare una caratteristica perché ogni personaggio ha il suo valore di caratteristica magari con scritto due o più vuol dire che voi dovrete tirare i vostri dadi di caratteristica e fare due o più successi molto semplice non è una cosa innovativa se visto in tanti giochi da tavolo o anche GDR oppure quando andate a combattere un mostro quel mostro ha valore d'attacco 3 vuol dire che vi farà tre ferite almeno che voi non tirate i vostri dadi di difesa due, quattro, cinque quanti ne avete e dovete fare almeno tre successi stessa cosa quando attaccate un mostro ogni successo che non viene parato dalla difesa del mostro gli farà un punto ferita i personaggi in questo gioco non muoiono mai perché se no secondo me la regola giusta è non far mai alzare un giocatore dal tavolo perché in un gioco così che magari tutta quanta la campagna dura anche sette, otto, dieci ore se mi fai morire il personaggio ma cosa faccio guardo quell'atti giocare però quando prenderete punti ferita punti sanità mentale punti paura qualcosa del genere terrore il vostro personaggio sarà incapacitato a fine turno tornerà in piedi però avrete un mazzo status che parte da un livello 4 a un livello 1 o allo rivesto qualcosa del genere comunque quattro carte del mazzo status e dovrete girarle per riportare in vita tra molte virgolette di far riprendere il vostro personaggio però magari avrà subito delle ferite permanenti o un trauma qualcosa di esistente la cosa più bellina di questo gioco secondo me la figata innovativa che potete anche non utilizzare nel caso non vi piaccia nessuno vi forza è il fusion system che cos'è il fusion system? loro lui più che altro Antonio Ferrara ha cercato di creare un gioco da tavolo reale che potete vivere in casa vostra una specie mi sembra un po' di quei anche GRV volendo perché il fusion system magari in un certo momento della narrazione vi dirà prendete il telefono e fate una telefonata a un vostro amico e c'è del tempo vi sarà dato un tempo per fare questa cosa oppure semplicemente anche prendete un mazzo di carte e tirate fuori boh un ass un gecco ora vi dico delle cose così a cavolo quindi se voi fate questa prova mettete la cassidra iniziate a girare per casa non fate la telefonata o non fate in tempo a trovare il mazzo di carte o ad esempio vi potrebbe chiedere anche di accendere il fuoco nel camino ma voi il camino non ce l'avete la prova sarà fallita il fusion system è questo cercare di mettere in contatto il giocatore nel mondo reale con la vostra controparte appunto ludica potete anche non farlo ragazzi potete fare la vostra scelta o fare un tiro di dado e andare avanti nei paragrafi successivi però magari il fusion system è bellino perché questo gioco è pensato per fare una cosa del genere vi mette blocca il gioco e vi fa andare in giro per casa a fare delle cose che essendo me invece è una trovata veramente molto molto interessante e onestamente non l'ho mai vista in un gioco da tavolo considerazioni finali e in conclusione ragazzi ora capisco perché questo gioco è stato uno dei più finanziati del 2020 le regole sono belle cioè più che altro non sono niente di innovativo ma girano bene come ho sempre detto io voi potete trovare un regolamento classico che vi ricorda chissà che cosa magari un gioco fatto centomila volte o tanti giochi molto simili tra loro però calzano bene cioè si devono andare a concatenare bene in un gioco del genere secondo me ci riesce veramente da paura soprattutto col fusion system che ripeto potete anche non utilizzarlo però per me è una parte molto interessante di un gioco perché ti invita a fare delle cose ovvio non vi farà mai fare cose sconce o strane però vi invita a fare delle azioni in casa che sono belline magari ti senti chiamata alla stanza accanto ce l'hai fatta a trovare un libro no quel libro non l'ho trovato e vabbè il tempo è scaduto la prova è fallita come cosa invece carina perché magari torni al tavolo tutto deluso e vi fate anche una risata quindi è veramente molto 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 consigliato e poi ragazzi sinceramente se siete amanti come me The Goonies è una delle mie serie preferite Stranger Things non vi può assolutamente mancare anche perché a quello si ispira io ringrazio Antonio Ferrara per avermi offerto questa copia grazie Antonio ti ho scritto un privato tra l'altro me l'hai mandata praticamente subito grazie veramente di cuore bellissimo mi garba da morire ragazzi consigliatissimo se lo volete ordinare primo link è in descrizione e insomma in pressione da Get Your Fun che è il vecchio board game discount ha cambiato solamente nome al miglio il prezzo sul mercato se non lo trovate in vendita perché ripeto penso non si trovi ancora perché questa è una versione Kickstarter ma quando uscirà la versione retail se lo volete acquistare da Get Your Fun e non lo trovate in lista gli scrivete un messaggio privato arrivo dal canale di Coridan non vuol dire che vi faranno uno sconto però ve lo troveranno al miglior prezzo sul mercato quindi meglio del prezzo che lo trovate da loro non lo troverete mai in più lo potete pagare non tutto insieme ma anche in tre rate senza nessun interesse nessun tipo di finanziamento e le spedizioni postali sono sempre 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 loro motto praticamente gratuite quindi alla fin fine l'andate a pagare meno del meno rispetto ad altri siti e non pagate le spese di spedizione ringrazio Antonio Ferrara per avermi fornito una copia e ragazzi spero che questo video vi abbia aiutato a decidere se comprarlo o meno ma io sono sicuro che se come me siete fan di due titoli citati Goonies serie anni 80 e anche e soprattutto Stranger Things non ve lo farete scappare ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti